Un nuovo appuntamento con Cronache e Commenti, il rotocalco che Teletruria dedica all'attività del Consiglio regionale. Come facciamo di consueto in apertura ai titoli degli argomenti che andremo ad approfondire. Scomparsa di Silvio Berlusconi, il Consiglio serva un minuto di silenzio. Garante dell'infanzia e dell'adolescenza, approvata la relazione sull'attività 2022. Un minuto di silenzio per ricordare la figura di Silvio Berlusconi, scomparso all'età di 86 anni lo scorso 12 giugno. Ad osservarlo il Consiglio regionale su invito, prima dell'inizio dei lavori d'aula, del presidente Antonio Mazzeo. Presidente del Consiglio dei Ministri dal 94 al 95, poi dal 2001 al 2006 e infine dal 2008 al 2011. Deputato per cinque legislature e senatore per due, compresa l'ultima, fondatore del Popolo della Libertà e di Forza Italia, partito di cui è stato fino all'ultimo presidente. Così Mazzeo ne ha ripercorso i principali incarichi a livello politico. Questo invece è il commento del Consigliere di Forza Italia, Marco Stella. La domanda vera è che paese sarebbe stata l'Italia senza Silvio Berlusconi. Sarebbe stato un paese sicuramente meno libero, meno competitivo. Sarebbe stato un paese culturalmente peggiore rispetto a quello che il presidente ha lasciato. Il presidente ha costruito negli arco degli anni qualcosa di incredibile partendo dalle sue avventure imprenditoriali. Ecco, il presidente ha cambiato anche questo. E poi c'è l'avventura politica che mi riguarda sicuramente più da vicino. Io penso che il presidente abbia lasciato a questo paese molta più libertà rispetto a quella che c'era prima, abbia lasciato a questo paese una dimensione dell'individuo rispetto a diversa rispetto a quella a cui eravamo abituati con i vecchi partiti. Venendo agli aspetti politici, con la scomparsa di Berlusconi cambieranno gli equilibri interni alla coalizione di centro-destra? A questa domanda il consigliere Stella risponde così. Il più grande insegnamento che il presidente ci ha dato sono i valori per i quali noi combattiamo, facciamo attività politica, facciamo attività tutti i giorni. Quei valori non sono negoziabili e non sono nemmeno spostabili. Non c'è qualcuno che li può tirare per la ciacchetta e non c'è nemmeno nessuno. Lo dico con grande chiarezza che se ne può impossessare tranne le donne e gli uomini di Forza Italia, tranne quelli che hanno camminato insieme al presidente e sono sempre stati in Forza Italia. Quindi la coalizione non si sposta. Noi abbiamo il presidente Tajani, il capogruppo alla Camera, il capogruppo al Senato, i ministri, i viceministri, i sottosegretari, i nostri parlamentari, la famiglia Berlusconi. Sono i baluardi di quello che il presidente ha rappresentato in questo paese. Ho condiviso la scelta del Consiglio regionale di sospendere i lavori, di fare una giornata di lutto nazionale anche dei nostri lavori, di un momento di riflessione di colui che è stato un innovatore della politica, che ha cambiato il sistema politico. Oggi si parla di bipolarismo perché lui ha creato il concetto di centrodestra e di centrosinistra che non esisteva nella Prima Repubblica, ha creato una dicotomia, ha portato avanti le proprie stanze liberali. Io sono sempre stato dall'altra parte, non l'ho mai votato, l'ho sempre criticato. Il mio impegno politico nasce antitetico alle politiche e alla figura di Berlusconi che oggi viene riconosciuto però come un soggetto politico importante, una personalità, un presidente del Consiglio che è stato più di 3.300 giorni a guidare il nostro paese, colui che più di ogni altro nell'epoca repubblicana ha guidato l'Italia e che ha innovato il sistema della comunicazione, che ha fatto impresa, che ha creato grandi successi nello sport, una grande personalità che viene riconosciuta oggi, forse del quale oggi tutti mi auguro possano portare rispetto. Io in primis lo porto e riconosco la correttezza di fermarsi un giorno perché quando una personalità di questo calibro lascia il nostro paese è corretto che poi ciascuno di noi si interroghi su quello che ha prodotto e di come ha innovato la Seconda Repubblica. In tanti ci siamo interrogati quando dovesse nascere la Terza Repubblica e io credo che insomma con la scomparsa di Berlusconi finisce l'epoca della Seconda Repubblica. Innanzitutto Fratelli d'Italia, il gruppo regionale, si associa al lutto, al ricordo, al rispetto, al dolore della famiglia Berlusconi e ricorda sicuramente, non spetta a noi dirlo, ma uno dei più grandi personaggi del Novecento. Forse veramente con la scomparsa di Berlusconi si chiude il Novecento italiano, finisce il secolo sterminato, come lo definiva Marcello Veneziani in un suo libro. Quindi si chiude veramente un'epoca di storia che è stata per noi l'epoca in cui ci siamo avvicinati alla politica. Io ho votato la prima volta quando Berlusconi era appena disceso in campo, quindi per me Berlusconi ha rappresentato tutta la storia politica. A volte condividendone le idee, a volte no, ma ha rappresentato sicuramente una pagina indelebile della mia vita e della vita di tutti quelli che oggi condividono con me l'esperienza di Fratelli d'Italia. Chi fa polemica lo fa per risagliarsi una piccola, qualche minuto di notorietà alle spalle di questo gigante della storia. A tracciare un ricordo personale del presidente Berlusconi, legato in particolare all'ambito sportivo, è il consigliere Giovanni Galli. Ho avuto il piacere di conoscerlo quando era nel pieno proprio della sua attività imprenditoriale. Aveva appena acquistato il Milan, venne a Firenze, mandò il dottor Galliani e prese Massaro il sottoscritto e da lì iniziò la conoscenza con la persona che fu la prima volta ad Arcore dove ci convocò tutti e cinque nuovi acquisti e lì conoscemmo di persona proprio il presidente. Era un uomo, era un visionario, un uomo che aveva dei grandi, aveva delle grandi prospettive in tutti gli ambienti dove lui si è calato, aveva proprio una visione che era vent'anni avanti a tutti. Nella televisione, nello sport, nella politica, nell'editoria, era un uomo che veramente trascinava, aveva un grande entusiasmo e soprattutto riusciva ad avere una grande empatia con tutti quelli che incontrava. Io lo ricordo per la sua grande disponibilità ma soprattutto la grande generosità. È un uomo che non si è mai dimenticato di chi ha lavorato con lui e anche figure che probabilmente spesso lo potevano annebbiare, offuscare quello che era il suo percorso, lui non le ha mai rinnegate e credo che questo dimostri la grandezza di una persona. Approvata maggioranza con il voto favorevole del Partito Democratico, la proposta di risoluzione sulla relazione e sull'attività svolta nel 2022 dal garante per l'infanzia e l'adolescenza Camilla Bianchi. Ad illustrare l'atto il presidente della Commissione Affari Istituzionali, Giacomo Bugliani. Si è preso atto dell'attività del garante nel corso del 2022, del fatto che il garante abbia dovuto affrontare le esigenze tradizionali collegate alla tutela dei minori, nel territorio toscano, ma anche a esigenze sopravvenute derivate soprattutto dalla prosecuzione ancora nel 2022 dell'emergenza sanitaria che ha posto rispetto ai minori una serie di attenzioni particolari. Così come intensa è stata l'attività del garante con riferimento al tema della guerra in Ucraina anche per quanto riguarda il trattamento dei minori stranieri non accompagnati e anche del trattamento che deve essere riservato ai profughi dall'Ucraina. Un'attività che peraltro ha visto partecipare il garante al tavolo interistituzionale che è stato organizzato presso la prefettura di Firenze. Nel corso del 2022 sono state confermate le adesioni da parte del garante a tutta una serie di progetti che si sono svolti a livello regionale e anche organizzati da altri enti. Tra questi ricordiamo soprattutto quelli dedicati al tema della legalità e quelli dedicati all'autismo collegato appunto ai minori e soprattutto all'esercizio delle attività commerciali con particolare riferimento ai minori che sono appunto colpiti da autismo. Intensa l'attività del garante anche con riferimento all'attività alla tutela dei minori relativamente all'attività di cyberbullismo. Tutte attività che in vero il garante svolge da diversi anni ma che nel 2022 nonostante le difficoltà connesse a un anno non semplice da molteplici punti di vista sono state confermate e in parte anche implementate. Sono stato io in commissione, in prima commissione a sollevare degli elementi di criticità. Riteniamo che una funzione di garanzia a tutela dell'infanzia, degli adolescenti, dei ragazzi più vulnerabili, più fragili, dei giovani necessita di un impegno maggiore da parte del garante. Abbiamo predisposto come maggioranza una serie di emendamenti che mettano in evidenza la necessità di fare un lavoro più incesivo, più propulsivo a servizio non soltanto del Consiglio regionale ma delle famiglie tutte, dei ragazzi in primis e crediamo che sia stato opportuno fermare i lavori del Consiglio per cercare di arrivare a un punto di condivisione laddove si possa migliorare l'efficacia di uno strumento che deve servire soprattutto a favore di quei ragazzi e di quelle ragazze che più di altri sono vulnerabili in un contesto di cambiamento sociale post-pandemico che li ha visti essere coloro che più di altri hanno sofferto di questa situazione. Io ho portato avanti due testi legislativi in questi anni che sono andati nella direzione dei ragazzi per cercare di consentire di creare dei luoghi di incontro, delle forme di aggregazione ma anche tanti testi normativi e di legge che non riguardano soltanto la passata legislatura se pensiamo alle questioni che riguardavano il bullismo e il cyberbullismo ma anche questioni che riguardano un uso consapevole del divertimento, un rapporto consapevole con il divertimento dalla frequenza delle discoteche, locali di divertimento e massima attenzione a quelle che sono anche alcune patologie ormai emergenti rispetto all'utilizzo di droga e di alcol. Il gruppo di Fratelli d'Italia non nasconde delle critiche. Per il terzo anno siamo di fronte a un dibattito surreale. Noi abbiamo una garante per l'infanzia che per il terzo anno consecutivo si lamenta del fatto che la giunta regionale non la mette nelle condizioni ideali per poter lavorare. Si lamenta di non avere struttura adeguata, si lamenta di aver chiesto un potenziamento dell'ufficio e di avere invece trovato un depotenziamento dell'ufficio. Si lamenta della legge regionale che istituisce la figura del garante dell'infanzia che non traccerebbe in maniera corretta i parametri entro i quali lei si può muovere. E per il terzo anno consecutivo approviamo un atto in aula dove il Partito Democratico dice esprimiamo grande soddisfazione per quanto detto alla garante, auspichiamo che qualcuno vada incontro alle sue richieste. Loro auspicano e loro governano. Cioè chi governa deve essere in grado di mettere la garante o dicono alla garante che non è adatta a fare la garante, che le sue richieste non sono consone e quindi non sono coerenti con quanto la regione toscana pensa di quel ruolo e quindi la invitano a fare altro oppure la mettono nelle condizioni di poter lavorare. Noi siamo di fronte a una persona che dice ho bisogno di struttura e la regione toscana anziché dirgli non è vero o non hai bisogno oppure se ne hai bisogno eccola, auspichiamo che qualcuno doti questa signora della struttura adeguata. È una situazione surreale. È chiaro che in questo momento parlare del garante per l'infanzia di fronte a un caso di cronaca in cui una bambina di 5 anni si volatilizza in uno stabile occupato, in una città come Firenze in cui degrado, marginalità, sono situazioni in cui non dovrebbero mai vivere dei bambini, ci richiama naturalmente tutti quanti non solo a dei pesanti interrogativi ma diventa anche quasi preonastico parlare del ruolo del garante dei minori proprio di fronte a questo. Io ho fatto un richiamo alla concretezza, un richiamo alla necessità di avere ben chiaro quale percorso dobbiamo fare. È inutile avere 500 garanti in regione toscana che sono solo poltrone e sono solo posti. Dobbiamo individuare su quali politiche puntari. In primo luogo le politiche per la famiglia perché da nucleo familiare, qualunque esso sia, io non ho nessun tipo di preclusione, parte che cosa? L'educazione, il futuro anche delle giovani generazioni e certamente oggi più che mai dobbiamo avere, ripeto, ben chiaro anche che tipo di risorse mettere in campo. Le figure vengono dopo. Oggi dobbiamo solamente capire questa regione che tipo di indirizzi e quante risorse può mettere in campo su famiglie e politiche giovanili, senza scordarci quello che io ritengo essere un caposaldo che dovrebbe stare alla base anche della programmazione in questa regione. Il patto generazionale. Oggi tanti ragazzi non hanno le stesse possibilità che hanno avuto nei decenni passati i nostri genitori. Capire che questo gap generazionale va colmato con delle politiche efficaci, con risorse importanti, io credo sia un altro segnale. Quindi meno garanti, meno poltrone, più politiche diciamo efficaci per famiglie e giovani. La Lega non ha partecipato al voto. Indubbiamente non è stato un periodo facile quello degli ultimi anni anche per quanto riguarda il mondo dell'infanzia. Lo stesso Garanti ha formato tutta una serie di osservazioni per quanto riguarda la didattica a distanza, l'utilizzo della mascherina a scuola, la vaccinazione. Noi crediamo che questi temi si debbano affrontare anche con un approccio costruttivo che tenga conto del periodo che abbiamo vissuto e di un interesse collettivo. Quello che noi diciamo è che c'è molto da fare per migliorare le risorse a disposizione delle Garanti per l'infanzia e dell'adolescenza, se ci crediamo davvero, perché altrimenti si rischia di avere quello che lo stesso Garanti parla, un vuoto simulacro. Non possiamo permettercelo, soprattutto in considerazione dei dati che ci fanno seriamente riflettere. Consideriamo che sono dati abbastanza remoti perché dati recenti non li abbiamo, ma intorno prima che iniziassi il Covid, c'è un 10% della popolazione giovanile in condizioni di povertà relativa, c'è un 17% di giovani che non cercano lavoro, non lavorano e neanche studiano, quindi veramente in situazioni non facili anche per i risvolti sociali di questa loro posizione. Dobbiamo fare di più per il mondo dell'infanzia e dell'adolescenza. Noi ci crediamo in queste figure di tutela e continua la nostra azione per spingere sia il Consiglio sia la Giunta di dotare questi istituti delle necessarie risorse e dell'adeguato personale. È tutto, questa era la nostra ultima intervista, grazie per la cortesia e attenzione. Vi ricordo che Cronache e commenti torna la prossima settimana.